ah mi sono bruciato che male raga è arrivata ma che tempo c'è? ti ho fatto una sorpresa ho fatto la zuppa calabrese con finocchi e salsiccia manciamo sta zuppa che sennò se sta freddando manziamo sta zuppa che sennò se sta freddando ciao raga come state? oggi farò una piccola sorpresa a Marta grazie ad Allo Fresh le cucinerò la zuppa calabrese di finocchi e salsiccia così un po' per riportarla nel suo paese non avendo mai cucinato la zuppa calabrese con finocchi e salsiccia in aiuto appunto mi è venuto Allo Fresh che ti procura tutto il materiale per fare la ricetta dei sogni vi leggo quello che c'è scritto qua sopra dimenticati della spesa e goditi solo la parte più divertente cucinare e mangiare ovviamente per me è perfetto raga e così non perdo tempo ad andare in giro a fare la raccolta dei viveri mi metto a cucinare subito raga vi consiglio di cliccare nel link che ho messo sia in descrizione che nel primo commento usare il codice sconto LUCA65 e grazie a questo sconto avrete 65 euro di sconto nei primi 3 box io direi di iniziare a partire subito con la ricetta che mi hanno dato perché vedete ti danno proprio una scheda quello che dovrebbe uscire è questo vediamo se ci avviciniamo poi mi direte voi se sono stato bravo o meno e qua dietro ci sono tutte le indicazioni su come procedere pulire le verdure fatto montate fino a che eliminando le parti esterne più dure sciacquatele e tagliatele a fette di circa 0,5 cm di spessore qua bisogna essere precisi perché se no la ricetta non funziona tengo qua il metro per misurare bene lo spessore di ogni fette di finocchio ora tagliamo questi 0,5 cm ok più o meno così questo è quello che io devo tagliare e vabbè non mi taglio le mani mi sa finito sbucciate e tritate finalmente e grattugiate l'aglio eh che trick ho usato ah bisogna levare l'anima non digeribile c'è anche dell'anima non è solo un bacino io raga ovviamente non è che sono uno chef eh e questo è un dato poi sfogliate tritate finalmente e il prezzemolo che non ho lavato questo devo anche sbrigarmi perché è matta tra un po' tornerà mi ero preparato anche il cappello da chef che lo vedete qui in sfondo per fare più bella figura però non so se sono proprio degno di portarlo mi direte voi se lo devo strappare a fine video oppure lo devo tenere in testa quanto prezzemolo? cubi? mi raccomando la pulizia del tavolo mentre cucinate è fondamentale c'è prezzemolo ovunque c'è grattugiato praticamente è andato fuori sbucciate la paltata e tagliate a dadini di circa 2 cm deve essere perfetto deve uscire veramente identica a quello che hanno fatto loro eh perchè se non mi arrabbi con me stesso guarda devi sentirsi a casa poi voglio sentire anche i suoi genitori che cosa ne penseranno di quello che ho cucinato 2 cm così oh no sul prezzemolo no perfetto sembro quasi serio vero? tu ti immagini raga non è così è perché è facile grazie a te lo fresh mi raccomando qua dice sconto luca65 link in descrizione 65 euro di sconto perfetto sbucciate lo scalone e tagliatele a fetti sottili cavolo qua c'era un metodo per... ma io non lo so perfetto preparare il brodo portate ad ebollizione 300 ml di acqua per persona come li misiono 300 ml ho fatto un casino raga è sporcato tutto d'olio ahhh cavolo ok devo scaldare l'olio e così poi ci butto dentro lo scalone farci un po' di pulizia prendo il vassoio perchè se no il tesino porca miseria che sfiga nooo mi è caduto tutto a terra ragazzi no devo staccare un attimo la telecamera e devo fargli vedere il casino che ho fatto è tutto a terra perchè poi qui ho macchiato tutto da olio raga mi raccomando la pulizia della cucina è fondamentale quando si cucina eh va tutto bene pensate se devo andare a fare anche la spesa e invece grazie adello fresh codice scolto luca75 avete 65 euro di scolto la spesa non la devi fare più devi solo cucinare e mangiare e va metto a soffriggere lo scarogno e anche l'aglio devo mettere a soffriggere quando l'aglio è caldo mescolando di tanto in tanto unire i finocchi e la patata mescolare con cura e cuocere per un altro minuto condire con pepe coprire con il brodo con il brodo e cuocete fino a che le verdure saranno morbide per circa 10 minuti ci sta col cappello si 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 è giusto poi si mobiliscono e poi le patate ok al frigo la salsiccia sta bollendo butto il coso per il brodo e tenete in caldo condite con pepe e coprite con il brodo caldo e cuocete fino a che le verdure saranno morbide circa 10 minuti chi so se uscirà uguale chi so se uscirà uguale l'aglio con un dubbio che ho prendo il brodo e metterlo nella padella ok ok mentre le verdure si ammorbidiscono cuocele la salsiccia riscaldate un cucchiaia d'oliva per persone in una padella preferibile del delerete poco medio quando non vale caldo brustulitevi il pane due minuti per rato dunque spostatelo su un piatto giro perché sennò mi si bagna il pepe non ho messo e loro me l'hanno detto così c'è un profumo raga Marta sarà veramente felice non sono proprio degno di portare questo cappello l'olio mi sembra abbastanza caldo li butto dentro il pane quindi ora levo la pelle dalla salsiccia dobbiamo diventare proprio dei bei crostini faccio come i very chef non è il mio caso raga ah ma cavolo non andava spezzettato ora il pane andava spezzettato dopo non uscirà per perfetta la ricetta ah mi sono bruciato che male raga forse lo dovevo fare in presenza di un genitore perfetto sta dicendo perfetto il prezzemolo quando l'ho aggiunto i crostini fatti vanno messi sul fondo del piatto aiutatevi con un cucchiere di legno e cuocete la salsiccia nella stessa padella in cui avete fatto il pane ovviamente voi se l'avete auspiti usate i guanti oppure aiutatevi con un cucchiere veramente non fate come me faccio vedere come l'ho sminuzzata è uscita perfetta quindi è un ottimo metodo ma io aggiungo ancora un po' di salsiccia perché e a parte che io sono un mangione e poi a me non piace sprecare il cibo non si fa male raga impiattare la zuppa sopra il pane ultimate il piatto posizionando la salsiccia sopra la zuppa spolverate con il parmigiano e il prezzemolo tritato finite con un giro di olio d'oliva crudo a crudo e aggiustate il pepe a piacere buon appetito ma ho già fatto bene raga non ci resta che attendere che finiscano le verdure di diventare morbide finiscono la salsiccia e vi faccio vedere bene l'impiattamento e insieme aspetteremo Marta nel mentre potete cliccare sul codice sconto luca65 in descrizione nel primo commento non era un fermo immagino lo fermo io mentre finisce di cuocere tutto quanto ora pulisco il tavolo pulito avete visto che bravo non è vero raga ora vi faccio vedere come lo ha pulito per i soliti sbatti di questo qua editing ci siamo quasi comunque ciao Marta come stai? a che punto sei? e quando stai per arrivare mi avvisi? ti ho portato la Calabria a Milano più di così non mi resta che apparecchiare non c'era sono un po' disorganizzato vicino che cosa posso? ho fatto tutto Marta sta per arrivare spero che sia contenta di quello che l'ho preparato perchè è un po' come riportarla a casa sua sa quante volte avrà mangiato la zuppa calabrese di finocchio e salsiccia che io è la prima volta che sento nominare però sono di Milano vi dirò raga è comodissimo cucinare in questa maniera perchè non ho perso tempo nel cercare la ricetta non ho perso tempo nel andare a fare la spesa e avevo già tutto pronto impostato devi solo prendere pulire e tagliare le verdure tutta roba fresca e in due secondi spadelli e la fai e in più sul sito internet hanno tantissime ricette codice sconto lucas65 link in descrizione e nel primo commento è arrivata ciao ma che stai facendo ciao Marta aspetta che posso giubbire ho preparato la cena aspetta ma che stai facendo ti ho fatto una sorpresa ho fatto la zuppa calabrese con finocchi e salsiccia veramente come quella di mia nonna ah si davvero l'ho fatta l'altra allora io non avevo mai sentita questa zuppa la zuppa di finocchi si ho seguito la ricetta di hello fresh e niente appena mi hai avvisato ho messo tutto a scaldare ma cosa succede qui in mia assenza ok guarda sediti pure al tavolo ah si che va questa è mia ah veramente avevo una fame non hai capito era un metro è tutto il giorno che sei in giro dimmi poi se è uguale a quella che faceva tua nonna si al momento si c'ha un profumino raga buonissimo bravo io questo non lo metto però eh che cosa il prezzemolo non mi piace aspetta manca il formaggio ah si mettilu basta basta vediamo se mi sono avvicinato no non mi sono avvicinato si ti sei avvicinato si dici guardate raga ci voleva un po' più sughetto secondo me per essere la vera zuppa è vero è vero è vero è ragione però ti ho dovuto aspettare passaggio ditemi voi raga poi nei commenti se sono stato bravo o meno grazie amore prego ma come mai ti devi far perdonare qualcosa no ti volevo riportare un attimino in calabria no con ricordi culinari e probabilmente ritornerai com'è devo levarmi i capelli da chef non sono stato bravo io sono stato bravissimo sono stato bravissimo davvero? si bene sono contento assaggio anch'io raga dattemi un attimo è stato bravissimo davvero? ho già sentito guarda mano è bene fai una seconda vita come chef se sei un vero calabrese devi parlare a parlare in calabresa no? e come faccio a parlare in calabrese? così? no ho sbagliato tutto non è che sei poi così è con la caspirata no? no no è il modo tipo devi parlare proprio non solo la cadenza ok allora provo ad imitare qualcosa dimmi mangiamo sta zuppa che se no se sta freddando mangiamo sta zuppa che se no se sta freddando no ho sbagliato? mangiamo la zuppa non devi fare così mangiamo la zuppa mangiamo la zuppa mangiamo la zuppa che sta facendo frid che sta facendo frid sono proprio fregato sono proprio fregate non fregato fricato sono proprio fricat i capa i capa che cosa ho detto? che sei proprio pazzo ma che cacchio mi vuoi dire? sono un vero calabrese venne da calabria 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 precisamente da crotone precisamente da crotone che è la città più bella del mondo che è la città più bella del mondo eh ma questo l'ho capito devi dire qualcosa di stretto vi du mangi che se no dimagrisci vi du mangi che se no dimagrisci casi no che se casi no casi no casi no casi no no vabbè raga noi ora finiremo di cenare lascio un po' la nostra privacy grazie mille HelloFresh vi ricordo il codice sconto luca65 nel primo commento e in descrizione ci vediamo al prossimo video ok? grazie a tutti buon pranzo buona cena buona colazione in base a quando guardate questo video passate pure dal mio canale ciao